Ciao ragazzi e benvenuti Oggi giochiamo a Happy Wheels Io sono Jack Io che è Android 78 E io Philox Allora andiamo subito su 3D Level HD 2 Mi ispira dal nome Che c'è? Mi ispira Ok Andiamo Scusate se lagga ragazzi ma Non ci possiamo fare niente Niente ok abbiamo superato il primo ostacolo Il secondo ostacolo Adesso stiamo passando sotto Aiuto aiuto corri 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 Bravo Ok ok Questo non sarà semplice Sì ok Stiamo girando con l'opera Devo assolutamente rifarlo 360 gradi Il giro completo Ok ora Più veloce che mai Adesso Ok ok Ci abbiamo fatto Mamma mia Che rischia Corri velocissimo corri Wow Tanto Jimmy Si Con la gamba Fuori Wow Cosa diavolo Concentrazione 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 Flash ecco Flash a trafitto Va bene abbiamo capito che non sono portato per questi livelli Eh sì certo Voglio provarne uno io Proviamo ora Wow Kill them and Whole Non lo so Come si dice Non lo so Anche io Proviamo Wow Wow Cosa diavolo era Ma sei ancora vivo Sì Eh nessuno mi può fartelo male Questo è un Scusate ragazzi Ma questo è un livello paranormale Intanto abbiamo Un bambino L'amico di nostro figlio Ah Medikit Medikit Ah Non ve lo Medikit Ah perfetto Sono curato Che diavolo No Che sarebbe Stavolta Ok Basta Non mi importa niente Del figlio Non è possibile E vinci Sì Abbiamo vinto Basta il figlio Lo chiamiamo Dustin Non abbiamo vinto Incredibile Basta però il figlio Lo voglio chiamare Dustin Ok Mi ispira Ok ora Ne proviamo un altro Proviamo Dead way La via della morte Non credo che sia così Però Mordo Vabbè mordo Mordo Via Tutto quello Mordo Mordo Allora devi aspettare Qui dieci secondi E te che te ne frega Cominciamo lo stesso Vogliamo morire Ecco perché Ancora vivo Ragazzi Non abbiamo le braccia In questo gioco Non servono le braccia Per vincere E' come se gli avessi staccato Un dito Nella realtà Non serve Mezzo dito Mezzo dito Per loro Non serve a niente Ormai i bracci Negli epigliz Le gambe fondamentali Wow Sì Sì ce l'ho Abbiamo un braccio No No Incredibile Ok Ok basta Questo livello Ci fa esplodere il computer Ok ora Andiamo su Steve the Slayer Steve lo schiavo Ok Non so le vuole dire Pure questo mi ispira Wow Minecraft Minecraft level Ah devi aggrapparti a Steve Allora c'è da rifare Ecco Bravissimo Vai avanti Con questo si va avanti Che è sta roba Epico Tensione Ma che è Wow Tutto merito mio raga Ok così Lo sta affettando Wow Creo che il creeper Ti dovrebbe fare Qualche cosa Aspetta Cerca di rialzarti Sì Io Boh Lo scheletro No lo scheletro Io odio gli scheletri Dopo un po' finiranno Le spara frecce Non credo che continueranno In infinito Noi aspettiamo Credo che abbia fatto Lo spero A sto livello Non ha senso Non ha senso È noioso Eh e neanche ha senso poi Anche perché ha fatto pure male Ho treduto Non c'è più un senso Ma comunque è noioso Questo è il livello Dedicato a tutti i minecraftiani Ecco dai ragazzi Ragazzi Stiamo Dai 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 Pochi metri Wines Divine Non so che vuol dire sta cosa Esci a sto livello Non ha più un senso Ma ci mancano pochi metri La vittoria Sì certo Adesso mi metto a strisciare Come un verme Per arrivare alla vittoria Proviamo un po' Smakedown Mi ispirano Noi per favore Fammi entrare su smakedown Ah sì sì Devi buttarlo di sotto E prende Prendelo e buttalo di sotto Ci vorrebbe essere qualche cosa Credo Credo Così mori Ma poi Pum È come Ring Smakedown Ok Non ha senso Esci C'era un Ride Eat like a boss No Voglio provare il pogo Eh non è pogo Ok Allora mi preparo a dormire Pum Vanno fatti con Eddie Questo sarà l'ultimo livello Facile però Almeno questo Ok No no Justin Bieber Ti prego No Justin Bieber Non ci arriva A meno Nob Supera Oddio Vai Sì Hai superato il mare Bad Fear Gaff No dovrebbe essere Gaff No no Fail No quello è Fail Allora fail Non so Scusate Se traduco cose Che non Nice Non so quello che vuol dire Però è un nome È un nome Il tube Penso Tobascus Tobascus Ok proviamo Affincio Questo Livella No Livella Dai prova Dai provo io Aspettate Wow Non credo che ce la faremo Si aspetta Salta di più Quando devi atterrare subito Sul poco Ok Stai facendo Opposta Che dovrebbe essere Questa cosa No C'ero quasi Riesce a far salti epici Non riesce a superare La spranga Che dovrebbe essere Quella roba lì Subito Sì Non parlo troppo presto Sì Più qui fai Più qui fai Grande youtuber Lui al poco Sei il vero poco Qua ci dovrebbe essere Qualche ostacolo Ce lo facciamo Ce lo facciamo Ah vabbè Che sono semplice Guarda la tua testa Non credo che sia Tanto semplice Sai Anche perché Credo che la testa Si esploderà Non so come Ma sono d'accordo E non so quando Soprattutto Wow Questo non credo Che sia semplice Cerca di non arrivarci In testa In te Col punto Cerca di non arrivarci Proprio Se ci arrivi In testa Vuol dire Che non riesce Non to fail Non to fall Non cadere Non buttarti Non cadere No No Detto fatto Detto fatto La tecnica No Questa è la tecnica Il serpente femminato Il serpente femminato Ok basta Ok Per oggi Noi chiudiamo qui Se il video è piaciuto Iscrivetevi Lasciate un mi piace E iscrivetevi Ciao ragazzi Al prossimo video Ciao Ciao